Aggrapparsi alla croce per non perdersi quando il mare è in burrasca, quando respiri solo diffidenza e quando della tua guida spirituale puoi solo raccontare la caduta. È un percorso intenso ma pieno di insidie quello dell'anima dei due missionari gesuiti portoghesi, Rodríguez e Garpe, partiti per il Giappone alla ricerca del loro mentore, padre Ferreira. Silence di Martin Scorsese racconta la loro storia, tratta dal romanzo di Shusaku Endo, scritto nel 1966 e ambientato nel 1633 in piena persecuzione anticristiana. 27 anni ci sono voluti a regista italo-americano per realizzare la pellicola, una gestazione lunga, faticosa, a tratti ossessiva e proprio di ossessione parla lo stesso Martin Scorsese sulla stessa linea il produttore Gaston Pavlovich. Come non può esserlo la fede se siamo vivi ed esistiamo? Sento di essere cresciuto in un ambiente molto duro. I miei genitori erano necessariamente religiosi. Venivano da una famiglia di contadini siciliani arrivati a New York senza aver studiato e il cui obiettivo nella vita era provvedere alla famiglia. E quindi quando io sono stato introdotto alla fede, ma veramente ad un altro livello, è stato in chiesa, nel Lower East Side, alla vecchia cattedrale di San Patrizio, la primissima cattedrale cattolica di New York. È lì che ho trovato questo messaggio di amore e compassione, responsabilità, obbligo. Da allora sono stato sempre ossessionato da temi come amore, compassione e fede, e la fede che ti traghetta al di là delle prove della vita, perché onestamente l'ho vissuto per davvero. Io stesso, da credente, ritengo che vi sia una ragione per la quale ci siamo riuniti proprio adesso per realizzare questo progetto che Martin stava portando avanti, perché nel mondo contemporaneo c'è grande bisogno di innescare un processo di ripensamento riguardo la fede e la libertà di religione, la libertà religiosa, oggi forse più che mai. Una fede messa a dura prova dalle violenze inflitte a gesuiti, ma anche dal silenzio di Dio. Un tema che percorre tutta la pellicola e soprattutto il personaggio di padre Rodriguez interpretato da Andrew Garfield. L'attore per prepararsi è partecipato agli esercizi spirituali di Sant'Ignazio di Loyola e ad uno studio accurato della Bibbia. C'è un bellissimo passaggio che dice «So che mi hai detto, non ti abbandonerò, non ti abbandonerò, non ti abbandonerò». Sono sicuro che non lo ha fatto, ma pensa e ad un certo punto Rodriguez dubita tal punto che dice «Non mi stai rispondendo, non mi risponderai» e comincia a ridere come un pazzo, gli scappa, ma alla fine impara che Dio è nel silenzio. Non esiste un vero silenzio, il silenzio ha sempre un suono. Forse è nell'esistenza, nello spazio tra noi proprio ora. Penso che questa sia l'esplorazione del silenzio di Dio. Come potrei spiegarlo? Non pensiamo alla nostra esistenza quotidiana, al miracolo di essere vivi. Non ci pensiamo ogni istante, ma se lo facciamo diventa una cosa incomprensibile. Il fatto di essere in questo mondo è un parziale inizio della comprensione del fatto che Dio non tace. Una lotta dell'anima, ma anche ferma a Scorsese un percorso di accompagnamento di Rodriguez nella sua via verso la croce. «In silence» prendo la storia di Rodriguez come la storia del suo pellegrinaggio, del suo calvario, ma anche come la storia della grazia finale che riceve. Alla fine comprende Cristo, ne capisce l'amore, un amore che nessuno può togliere, non possono. Tutto gli viene tolto, ma non quello. Anche Papa Francesco in passato aveva letto il libro di Endo e lo ha confessato allo stesso Scorsese e ricevuto in udienza con la sua famiglia. Un incontro cordiale, concluso con la consegna da parte del regista, dell'immagine della Madonna delle Nevi che i fedeli giapponesi veneravano in clandestinità. «Sono stato completamente spiazzato dalla sua familiarità e gentilezza, da come ha condotto questo incontro. Sono stato molto toccato dal fatto che abbia benedetto la mia famiglia e chi era con noi, soprattutto quando ha imposto le mani sulla fronte di mia moglie, che era molto commossa, come le mie figlie. Lui mi ha detto che spera che il progetto porti frutto nel mondo e io l'ho guardato e ho detto, con la sua benedizione, Santo Padre, e ha risposto, pregi per me. E ha detto, pregi per me.